Se caldo di prima del cazzo in poligono Piattaforme aggiuntive Peccato, Ale poteva vedere Gli 1v1 per la dignità in poligono Io Vabbè, stavo giocando su ogni avos E' zitto, 11.50 Devo staccare Ah, ok E a mezzanotte facciamo tre anni Sono presente, figa Auguri Non si fanno No, no, non hai capito Già, gli do un joystick e gli faccio usare a Gibraltar Non hai capito un cazzo Già lo immagino A carnevale, Halloween Non voglio mettere questo costume Metti Gibraltar, stai zitto E' un orso, no, per i coglioni Stai zitto Dica, se il mio cugino si presenta Se il mio cugino si presenta a Pasqua Senza aver scaricato Apex sulla Switch Non lo faccio entrare in casa Non lo faccio entrare in casa I calci, mica, vai via I mori di coglioni Pezzo di merda Ho detto, scaricati Apex Io ho anche il luogo di Pasqua Ci cago sopra Ti immagini E ti rompe l'uomo Più che fuori la merda Ti ho già detto Sabrina Tu lo fai divertire Io gioco a dire Perché mi rompio i coglioni Lo stai prendendo Lo fai il Master in un giorno Sulla Switch Sulla Switch penso Cioè, faranina di polli Con il gioco Sinceramente non lo so Messo pronto Sinceramente non lo so Alle 4 del mattino Lo vedi? Stai, devo andare a casa Pre coglioni Ma ci sono le pippe oggi Fidati di me Oddio Alle 4 del mattino Stefano Devo andare a casa Domani ho lezione Pre coglioni Lasciami qui la Switch E vatti fuori dal cazzo Prematter Alla prima morte Che prendo Porco Dio Ti spiego a metà la Switch Rimpiego Anche proveri Ho regalato Alla comunione Oro per i coglioni Sono qui per guardarti Le spalle Pepe Gioco di merda Mi l'ho regalata io E quindi è mia Con il gioco Per i coglioni Già comando Hai capito Porco Dio Io mi metto qua Nell'angolo Guarda Guarda Io vado là Sono facili Robby Stasera Predator 200 Sono solo Cioè Laga Sono master E Predator No 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 Mazzano un barda Sei bloccato Guarda C'è bloccato Anche a me Dai Andiamo a San Paolo 1012 1700 Errore Grazie Questo l'ho capito Un po' più Un cazzo Per voi Per me è meglio Si fotte il matchmaking Quindi io sto dicendo I Predator Che ci sono adesso Una partita ogni 5 Beccano all'interno Dei platini Cioè Vabbè Niente ma fa Ho perso i punti Così Gratuiti Per ragazzi Giusto così No vabbè No l'omba ci riconnette Spero Io con un letto è una freguina A me l'ha tenuto pronto No Adesso me l'ha tolto Io no Però non l'ho perso i punti Cioè più 24 di oggi No dopo ci dà il ban Dopo ci dà il ban C'è un'altra volta Ti invito Io ho messo il bel giugno Fate quello che volete Ma no Se è pieno di 3 yarder Metti bel giugno Metti bel giugno Metti bel giugno A zone online Ragazzi Giappone Dai così Giappone Anche il server ha detto No no Voi non giocate Che è meglio Perché E' meglio evitare Vediamo se hanno messo la switch Come console Vediamo No non c'è ancora Ma io penso che ormai Quelli della switch Non faranno crossplay Allora Vediamo Attivare il crossplay Su pc Siamo arrivati a 31.000 punti Gia Qps 22.000 Ma in che senso Su Xbox 17.000 Ah quanti giocano Allora Dal master Dal master Stacked Ah ok Allora Dal 10.000 Sto guardando No Sì Non so Guardano quante posizioni Sono Allora vediamo Se tu arrivi A master Su Xbox Ecco perché Vexo è master È predator Già su Xbox Allora A 10.000 Punti Sei 360 Al mondo 360 Sessantesimo Ecco Vuol dire che Da 10.000 in su Ci sono 360 persone Vexo è 199 Quindi Vexo Vediamo quanti punti ha E avrà 10.000 e due Che ha fatto una win Beh sbaglio 199 Sono 10.187 punti Se guardate il mio Trager Avrò fatto possedere 100 punti Sono ancora collegato Avrei una domanda Ma il clan Il clan vostro Qui Sono gli Itz Itz clan Col 4 Perché mi si è bloccato Su questo clan qua Continuo a schiacciare Scopri nuovi clan Ma non me ne fa Solo il vostro Beh Perché probabilmente Tanti amici Che sono lì dentro Cioè dammi ne altri Eh raga Ma danno Come fanno Nessera già Per il tuo Di appunti Eh In Xbox Sono un indice 17.000 Allora A Diamante 3 Ci sono 1.2% Dei giocatori Su Xbox No A Diamante 4 Attualmente C'è il 7% Dei giocatori A Diamante 3 Il 1% Vuol dire che Tra i 4 E 3 C'è il 6% A Platino 4 C'è il 16% A Bronto 3 C'è L'1,4% Dei giocatori Quindi raga Che cazzo faccio fare Mastery Dranko Raga Cioè Sono contro il top 1,4% Dei giocatori Non ha senso No La mia paranoia E f***a Fa dei pucci Mi perdo Oh no Ti ho scoperto Spero Sbagliaboli Dai voglio un Trident Rapid No no Affidati Che ho fatto due Ambush Su due Trident Di questi giorni Eeeh Ci sono due Diamanti a sinistra Una squadra che va a Residence Sì Sì Ma non è quella Sì 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 Due squadre A sinistra Ma ci sono due squadre La Mozambique Ma non è quella special Ma perché mi ha preso la mia capa Ma tu hai detto Vai di là Giuseppe Eh Infatti Io dicevo Perché se mi giro Stai spariti Oh il nuovo Ma magic Potrebbe farmi comodo Qui c'è un caricatore pesante steso Livello 2 Qui c'è un caricatore pesante steso Qui ci sono munizioni energetiche Io ho Spitfire Jette Le carte le fate tutte o manca l'altra carte L'ultima questa No questa fa niente Le fate Paolo Non ci passo questa parte Io ho E' una battery E' un kit medico Cazzo Ho l'Hombo R99 È l'unica roba che ho trovato Cominciamo a muoverci Siamo in movimento Fate sotto Fate sotto E poi Posizioniamoci qui In casa Dovete fatti tutti No? Sì Anche le casse Qua c'è un po' di pezzere Eh? Speranti? Attenzione Speranti no Avevo usciato qualcosina in una casa 20 colpi mi pare Da te? Volo, volo da te Volo da te Becca, becca Ah ok C'è uno solo No, arriva gli altri Sì Sto qua in noi Sto qua in noi Confermo Confermo Sto qua in noi Confermo Mentre Andiamo a fuori Continua Ah Fallo ce l'ho Rai Non rieschiarlo È ma dove ti ho preso oh guarda 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 i blodi guarda i blodi va che roba va che roba 30 euro spettacolo va che roba io non ho spesi 67 per i tagliacapelli quindi immagina va che roba per i tagliacapelli i barbieri continuano a chiudere che cazzo mi sono preso tagliacapelli valli niente raga in zona 4 bisogna andare troppo pericoloso ci sono troppi team e rifermo stai lutando ormai cazzo mi ciavone che puoi star qui a sgranocchiarti un millepiedi ma ti sembra normale non so che si muove te godi perchè qualcosa si muove però ah mi ha fatto uscire no merda ho sbagliato concentrati concentrati qui in bolla da uno non ancora flash e farà un fiet tour ma che voglia ho sparato octane perchè mi ha detto che era flash e se fosse octane lì metto flash non so ho rotto uno studio ma era un attaccato all'altro si octane era flash perchè io ho sparato e ho fatto coso ma che ti sparano che fai ma poi c'era un team dietro e un team sopra fortuna che è gold spot no beh da lì puoi ruotare sui vari i tour party? nooo c'erano quattro squadre siamo noi il tour party vila adesso metto ryzen giuro mi sono toccasso volete che provo crypto? no 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 dico di più ok non è da sottovolutare al crypto eh lavoro duro bella vittoria ah nerf hanno ryzen in cielo oscilli di meno ah puoi muoverti poco mh così sta allora io penso che quella ascensore di gravitazionale per secondo me è più un escape che un... eh infatti adesso diventa più un escape eh infatti adesso diventa più un escape eh infatti adesso diventa più un escape non c'è nessuno forse in giandini una squadra o due qua, qua un team, qua un team no c'è solo fuori mappa e è uno singolo è buono eh no era bambuso c'è ancora la mappa era bambuso era bambuso era bambuso era bambuso quindi è come quello di ieri c'era un... l'ho sentito, l'ho sentito eh? l'ho sentito, l'ho sentito ti ha praticamente bambusolato male ma ha fatto... ha giocate la vita eh uno non se lo aspetta eh uno non se lo aspetta e lo prende no infatti ma camminavo in open e dico vabbè che cazzo e mi sparo no? tanto non so per me dei bambini era vero ma se ne ho 140 di... di... di ms adesso ce l'ho 70 avete armi? ho women alternator vai, io ho un sentito nel... proviamo avete... acquisite un botto di nade raga ah, eh eh... non so quanto spazio occhio Paolo eh compriamo il cazzo di nuovo da roccia ho una stella arca e una granata buono fatelo hard o fatelo... a salve? nemico individuato ricevuto dai, fa niente, lascio stare se non ci... cioè se non interveniamo dai, sto adesso fai te una hard però no, hai giuro... due knock un knock a testa? no? no, due knock e io non la uso e io non la uso ditemi quanto spurtare ah, un che non si c'era però è meraviglia no, no, c'è 46 ok c'è il cazzo è bloccato eh nooo, ma chiuso la porta davanti chiuso la porta davanti chiuso la porta eh un resto, un resto, un resto un resto, un resto un resto, un resto rotti, rotti entrambi, rotti entrambi cazzo è no, grata di merda dirà solo eh cazzo? eh, anche io cazzo nida non hard eh, ho accisto AAAAAH porco Dio ci sono ci sono ci sono ci sono mi abbia mai piaccato di cia mi ha bloccato fuori Caressando Arriva un'altra squadra, arriva un'altra squadra, un'altra squadra Dai giù, gioca sotto, gioca sotto È scappato Mi ha arrestato quelli in casa Mi sto curando sotto Va che probabilmente ci muoiono Eh dai però raga, dai cazzo, dai Cristo, Dio, i tuoi due lotti di tempo Palle Faccio una pausa, devo darmi una sistemata Si sto provando Si, si stanno cercando, scappa scappa Si, si, si Eh ha tirato, ha tirato il pick me up sulla porta Ha tirato il pick me up sulla porta Ha tirato il pick me up sulla porta Sono morto, potevi rissarmi ma meglio non rischiare Vai vai Poi è arrivato un octane così casuale con il trident del loro compagno Ha sparato poi è scappato Si, si, no il trident era dal loro compagno Si, si sono lì 8.000 granate sono arrivate cazzo Mi hanno distrutto Poi prendi il trident e provi a scappare Ma non lo vediamo Ha già, ha la super con il gira Già, ha la super con il gira Ma non lo vediamo Certo Scusa non l'ho capita sta cosa Nooo Eh vabbè dopo questa guarda mi fiume una sigaretta per festeggiare Ah ma sono lobby facili questo Sì dai non ho chiuso in cazzo tutti e tre No ho trovato il gibbo e quando mi hai detto che era craucciata avevo beccato il gibbo perchè Horizon aveva tirato fuori il coso Il gibbo aveva il musty L'ho sparato e ho rotto scudo Però Horizon ha tirato il coso gravitazionale E quindi non riuscivo a vederla quella puttana Attenzione il leader decisioni è stato eliminato E' distante E' distante E' distante prossimo agli ultroidi Ok allora faccienza E' distante E' distante E' distante Sì Perchè ma vince che cazzo hai fino a fatto quando ho neanche più messaggi allora facciamo una richiesta d'aiuto vince se ci sei e stai guardando la mia live il che non credo no ma è platino 2 eh buo che si sarebbe stufato vabbè vabbè non ci fateva fare molto, non lo uccidere a me tra l'altro ne buttare a terra a me è arrivato l'offing e quindi anche lì ha scombussolato tutto mamma mamma come neanche l'ho cagato l'offing e gli ha sparato il ruolo di Paolo si è venuto a rompere il cazzo e basta è venuto, ha sparato due colpi e poi è scappato a guardarlo così sembrava volesse aiutare quelli che erano dentro casa guardando 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 non sto guardando dove sei? ai giardini vai negli alberi lì a basso a destra facciamo col dorso in un bosco di E la Nike inizialmente si chiamava Blue Ribbon Sport Store guardando ah, giallo ma non c'è tutti i giochi di aprile che però non mi ricordo 9 e 23 sono 4 persone in meno 2 siamo noi guardando magesti guardando 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 Grazie. 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 Salve. Nice aim, bro. Sì. Se non so, guarda, non lo potevi sembrare i figli. Dai, che strini che giocano... ... 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 C'è assurdo Manca troia Sto invocando la forza della natura Da braffanculo o no? Dai Dai Pathfinder di figa Dio bastardo Porco comunista Petto di merda Baffanculo anche il dissociarsi Ah vaffanculo dio cane Ti andai a super per scappare Questo qua con un rampino ti corre dietro Figa Mi sono toccato il suso cripto Voglio sapere quante cazzo di squadre ci sono Vicino a noi porca puttana Andiamo a cancellato Tempo zero Pinin coglioni Assuso cripto voglio sapere quante cazzo di squadre ci sono Porco dio vicino a noi Dio cane Che almeno ci prepariamo cazzo Porco dio Ecco Vado a parlare del diavolo Dai c'è Buono Ah io giocate con lui va Non ho avuto tempo di reazione Due secondi Due secondi Porca madonna Cosa? Ah mi è mutato Penso che non lo sento Orgogliosa e fiero Ah ok Non ti sentivo Allora A me mancano esattamente 65 punti al platino 1 Quindi faccio qualche ranket da solo Sì fai da solo perché stasera le lobby guarda sono una bestemmia unica Concordo Quindi penso che da domani poi possiamo cominciare ad arrancare tranquillamente seriamente Perché c'è la zona rossa Dalla mia fidanzata c'è anche la zona città zona rossa Quindi non posso andarci Quindi starò tutto il giorno a casa sempre Ah non lavori neanche? No la mattina sì lavoro La mattina sì Quindi dalle 4 Alle 4 e mezza E poi sarò Sarò a casa Test Tu zitto che hai 4 giorni che stai a casa Cosa? Magari stessi io Non ho capito Dillo di nuovo No 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 Non ti sentivo perché sparavo Dai dimmi Vabbè non vuol dire niente Eh è un po' Eh è un po' Riscaldamento Esatto Hai visto in quanto tempo Mi hanno messo metà vita Quanti secondi Andiamo a cambiare una vita Porca troia Sono andato nell'altra casa Per tenere la porta No hanno dovuto sparare a me Cioè tessi hanno mollato No Poi c'è quello più pericoloso Porca troia Gillette Fernando Gillette la madonna Io tanto schifoso Guarda si sente che Stefano è incazzato Perché guarda Non fa nemmeno un punto Proprio dalla voce Proprio dalla voce si sente Bravo Cioè Ma andando male non è che stai giocando male Stai andando male perché becchi sempre la gente O di spalle O qua lo stiamo speccati O il pio su cristo Quindi con testa si stai Ehm Eh no Allora sono già scesi Sono già scesi Sono già scesi Ma insomma è qua Ma no c'è una squadra Sì qui c'è un team Master Vai 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 Mi dovevo andare Mi dovevo andare Mi dovevo andare però due tutti Sì Sì Sei da solo occhio Sì Mi sono andato alle case nel fondo Muoverci da su questa parte Ah bokeva Qui lì davanti Andiamo Eh non c'ho ancora uno scudo io Ehm Dentro lì c'è uno scudo bianco All'interno Dentro qua eh Facciamolo Solo Paolo sei solo Individuata Devo agire in fretta Non ho lo scudo Ho visto Arrivo Non ho la cura ma arrivo Mamma mia Sto ricaricando gli scudi Ehm E dai sta col cecchino sul terzo Stanno giocando lontani questi dai Andiamo andiamo indietro Andiamo da questa parte Ci hanno due cecchini su tre persone Ci hanno È lì con loro È lì con loro È lì con loro Da noi Passi Un altro team Un altro team Che mi sono due coglioni Tigli al trailer Tigli al trailer Tigli al trailer Ho già sprecato la bolla eh Riproci Veloci 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 scendo cazzo adesso figlio Watson non la passa in giro, lo stai dicendo eh? rampa al figa ah no figato, non vuoi togliere bene stai in casa, non te ne tende viola, dai roba di merda calcio per il cecchino, munizioni per il cecchino eh niente, prendo il cecchino la fede c'è una bianca al suo palo prende l'arma più versatile sto ricarizzando di fuori un caricatore guarda che ce l'ho in giro qui c'è uno zaino, livello 2 qui c'è uno scudo evo livello 2 noia lascio il gibbo ci sono munizioni per cecchino io prendo la bluestar grazie qui c'è un caricatore direi di muoverci verso questa parte ah sto giocando con gli agitari un altro cecchino non ce l'ha ci sono munizioni per cecchino qui qui c'è controlliamo quest'area sto ricaricando gli scudi lascio giù le gire qui ci sono munizioni leggera trasmetterò quello che trovo grazie passi da me merda eh sto arrivando non ho la supera sei pronto a faiitare oggi ma che cazzo le calamite già non posso ho il 94% due squadre ci sono mettiamo 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 abbiamo fatto il drone vabbè dai raga stasera non si possono giocare 70 scudo rotto devo prendere il banner non stare a qualsiasi mamma non stare a qualsiasi mamma piglia il banner è distrutto il mio coso devo provare scura o scura scura cosa e dai segna segna il banner ti previste cazzo altro team un altro team un altro team un altro team un altro team E stavo scappando da questo E il team davanti Ma questo gioco qua si chiama ammucchiata legend Ma che cazzo mi significa oh Cioè Io non so voi ma E' già 4 partite che troviamo 3 squadre Che ci sparano Cioè io avevo guadagnato 5.111 punti Adesso sono 5.073 Ho perso 30 punti Cambiamo server per piacere Cambiatelo raga invitatelo Dio mio raga ma che cazzo è Cioè poi nessuno che sbaglia un fottuto colpo Non c'è nessuno che sbaglia un colpo Le diamanti in 4 sono così ma non è quello E' il discorso Cristo Cioè hai preso il banner Mi giro senti Brody Lo sono riuscito Mi giro Sento uno spot e sento E vedo Brody dietro Scappo E c'è il team sopra che mi aspetta Andatevi a fanculo Andatevene via un po' Che cazzo Oh un'altra così Stasera smetto di fare rank Te lo dico Cioè Non so cosa dirvi Cioè comunque a me sta bene che tu sei bravo a sparare Ma non puoi mettere tutti i colpi a segno Uno lo devi sbagliare C'è qualcosa di strano Dai cazzo Ma non è vero Ma non è vero Non è vero Sì sì ma ci stava Ma anche da solo Stavo dronando Hai visto mi hanno mancato Sono morto dal team davanti No non sono riuscito a vederti Perché mi dava già squadra eliminata Nel video Che se quando c'è la parte in cui tipo muori C'è la cassa E dopo ti fa vedere il tutto bianco e nero Ecco dopo è arrivato squadra eliminata Non sono riuscito a vederti C'è poi Allora Siamo andati Spaccatura C'era una squadra E poi è comparsa un'altra squadra È comparsa un'altra squadra Siamo scappati A posto per riuscire a luttare Siamo riusciti a luttare Ed è arrivata una squadra dietro di noi Molto probabilmente quella di spaccatura Per dopo arrivare Un'altra squadra davanti E un'altra squadra dietro di me Ma che cazzo di lobby è? C'è bastante Ma che cazzo di lobby è? Già quando è arrivata la squadra dietro di noi Che ho iniziato a dronare Solo per rompere i coglioni Mi dava già due squadre No ma non è il discorso di due squadre È il tempismo Sì Adesso tanto faccio l'ultima Te lo dico Se faccio un altro meno 40 A parte che vabbè Che cazzo non è C'è abbiamo zero punti ormai Quindi Eh a me dispiacerebbe perdere punti Non so voi ma Ma tu li fai facili a Platino Ale madonna Eh sì Soprattutto in questi momenti Ho fatto più 6 Ho perso 36 6 16 E 24 punti mi sembra E ho guadagnato solo 6 punti Mannaggia oh Mannaggia loro dio Io non so veramente che Robby giocate voi ma Cioè se devo arrivare a Diamante per giocare così Figa Ti diverti di più a fare A fare la libera E giocare con la Monza Cioè se ti diverti molto di più eh Porca puttana Adesso giochiamo con Watson Giochiamo con Crypto Spotti dei safe Predicchiamo Stiamo in casa E vaffanculo a tutti Cerchi il contest E c'è l'altra squadra che ti arriva E scappi E c'è l'altra squadra che ti puscia le spalle Dai raga Caustic Watson e Rampart Dai fai Ah no no ma tieni Crypto Tutto va bene in questo tipo Ho solo per dire eh Siamo calmi e non bruciare Oh Dio signore Raga Non ho parole Dio 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 Scendiamo e contestiamo una squadra C'è una squadra Pum 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 Spalla l'altra squadra E questi da cazzo sono usciti Metterò figlio di loro potenti che li Satanati oh Porco Comunque c'è un botto di eco Lo dico io eh Io ce lo sento Sono la migliore nel mio campo Ne eravate al corrente Ma guarda che la voce non è da Da quando l'ho usata io Ho fatto cazzo un po' Ma io stavo usando Ma io stai sento Te lo senti Paolo? Eh le buche di Ale Di cose Di Paolo Ah ok Scusate Le buche di belli Cuffie di belli Cuffie indomite Oh vedete voi Io non so che dire Andiamo qua dentro Ah no c'era una squadra lì eh Ah vuoi andare questo Ok Eh il mondo ha i states Il mondo ha i states C'è veramente il mondo ha i states Ma su un'altra retorsione Su un'altra state Dobbiamo fare un'altra parte Sì L'obitorio avrà un bel zaffare oggi Fuori il primo Ora sosteniamo anche gli altri C'è anche uno scudo Grazie Di cure Un altro paio d'occhi non guasterà C'è lo so Da cazzo C'è neanche un codo Ah fa culo Disconnessione dal drone riuscita Qui c'è uno scudo Evo Nivello 1 Ritiro il drone Io ero il 301 e alternator Qui c'è un caricatore più tanto esteso Nivello 2 Andiamo Allora un bambuno Qui c'è un'ottica Distanza ravvicinata Ma sì può tornarmi utile Vediamo se dobbiamo farci fight contro questi Perché non farlo Grazie No ma è 40% Qua sotto il numero 48% Lezzurotto Non siamo soli Guardateli Non so dove siano tra gli altri Controllo Una squadra Attenzione c'è una squadra nei paraggi Era blu era blu Horizon blu Stanno bene Mi hanno sfruttato Una Sono lì dentro C'è una squadra nei paraggi C'è Bloody Eva Ve lo dico l'Eva No ha sparato il mio drone Sembrano solo due però Nah mi ha fatto il drone No Sento Octane da me C'è un nemico Proprio qui Lancia una stella Arche Cioè dove cazzo vado Gli altri arrivano Gli altri arrivano Grazie Rotto l'altro Rotto Riotto Rotto Rotto l'altro Rotto l'altro Rotto l'altro E' cineva C'è un'altra squadra qua Bravi ragazzi Voi andate là io vado qua No Cioè raga se è così è come giocare da solo in platino Incredibile oh Mi dava una squadra Raga prima che mi esplosesse il drone Mi dava una squadra figa Cioè non ho parole raga mi dava una squadra Crypto figa prima che me lo distruggessero Cioè non può darmi Una fottuta squadra E dopo che me lo distruggono esattamente Dopo che me lo distruggono arriva un'altra Non lo so ma io ho perso un botto i punti 400 punti Ero a platino 3 porco dio Sì poi pingherà 200 Poi pingherà 200 Da non crederà Ma hai visto delle lobby così merdose Cioè raga sembrano delle libere oh Ma poi non ho capito perché sei fermato indietro Pensavo tirassi dritto cazzo Cioè stava che stava coprendo Poi ho sparato da lontano con uno per Ho praticamente fatto 130 all'unico che aveva lo scudo Eravamo due flash Eh lo so ma da lontano ho beccato uno E l'ho sparato Un lockdown non lo vedevo E l'altro l'ho praticamente ho fatto un marcello di danni da lontano Abbiamo 30 giorni per il marcello di danni da lontano Abbiamo 30 giorni per il marcello di scarto Ma come cazzo giocano a me facciamo i coglioni di come minti e giocano Ho provato il crypto perchè almeno guardavamo quante squadre c'erano Eh ma rimani troppo qui a me Che poi tra l'altro i due che avevamo spottato col crypto Non è enter Cioè i tre hanno sparato a noi e hanno spushato solo noi E i due? Hai capito? I due che hanno sparato Ma se la guardare il drone Esatto hanno distrutto il drone e basta Sì buttati tanto Eh roletta Vabbè 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 Ah sì Ma sì Non c'è nessuno Vai buttati mi frega il cazzo Ah da noi non c'è nessuno Penso anche io È l'Ise o c'è qualcuno? Tre squadre Cioè vediamo se riesco a buttare La terra era un amico porco dio L'altra era 301 voglio vedere Ah però siamo a New York C'è un sentinel però volevolo Scusa o c'era lì dentro? Scusa o c'era lì dentro? Scusa o c'è la munizione energetica Corsa nel vuoto Sto controllando i dintorni Collocamento baviera La barriera è pronto Vedo un cazzo Allora scudo ho trovato solo uno Solo blu Questa è uno scudo Evo Livello 1 Tornerebbe utile Qui c'è un alternator Cazzo Passi passi Dai no Barriera via Il circuito è pronto Qui c'è uno scudo Evo Livello 1 Non vedo nessuno Lascio l'R301 Qui c'è un R301 Sono sopra Non so se la cosa è giusta o sbagliata Sto controllando l'aria Tutto di là Guarda guarda la vedi? Guarda me guarda me in due Guarda me in due C'è un altro Mi spara le spalle Ma Gesù Cristo Non andare in Non andare in Non andare in Cazzo Paolo aspettami Restiamo solo noi due Ho finito I colpi Cioè vabbè dai no Aspetta andare in F***a Ero flash Non posso dararti una mano Che bella Boh No qua non era da pushare così Sì è avuto duro Di aspettare almeno Ale o me Cioè da solo che cazzo fai Fatti Non vedo sti Non vedo sti Boh Ma questi erano fattibili Questi erano fattibili Gli hanno giocato splittati Gli hanno pushato una turn Blowdown gli ho fatto 120 Ma ho ucciso per il lag Se pushiamo in due ramo 2v1 col blowdown E ho capito Chiama che pushi Che viene Ale con te Cioè il tempo di gioco è quello Io lo sparavo Ho capito Ma a prescindere per sicurezza Fatti un 2v1 No? C'era Ale full ancora E eravate in due Pusciavate Ho sparato a Wraith lontana Perché aveva sparato a Steffi Che gli aveva distrutto tutto scudo Ma sì era quella lontana L'ora che arriva Doveva prendere il tempo di gioco E noccare subito Quello che c'era sotto Cosa cazzo sto sentendo Bordio Bordio Polvere da sparo Odora di vittoria La fine è già decisa Credetemi Gioia del Signore Il Signore lo vorrei ammazzare Inizia la battaglia Che gli dèi ti benedicano Tutti pronti Ci lanciamo Eh I sci americane qua Non scherzano però Ho capito Dai da solo Aspetta Mastiff Lascio anche l'otturatore Qui c'è un otturatore per shotgun Livello 2 Gioco se mi dà anche un'arba Meno qualunque Lombo E Amok Qui c'è un Avog Armi Qui c'è un otturatore Livello 1 Qua diciamo è leggera Tanto è leggera Ah G7 Proviamo È un po' che non lo uso Qui c'è un Mastiff Ah uff Mamma mia Qui c'è un caricatore leggero esteso Livello 2 Wimmel Castello Qui c'è un Opa Qui c'è uno wingman Lascio giù un stabilizzatore Qui c'è uno stabilizzatore canna Livello 1 C'ho 20 pesanti Sì sì io ti sento Oh 100 colpi pesanti C'è un 50% di super Qui c'è un casco Livello 2 Spide ancora sinistra Lasciate a me Allora stanno Grazie Ersaglio laggiù 100 secondi Perfetto di noi eh Sto controllando l'area Horizon rotta Horizon flash Horizon no Mamma mia dai Ho abbattuto un nemico Dentro hardgole Master in casa eh Passo dietro Sali 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 Non sta Aletto c'è Madonna tanta Non lo so Spot Aletto Eh, ci sto provando, sta caricando Ma che cazzo è, orai? Oh Ho sconfitto un avversario Un posto in più verso la vittoria Ho usato pesanti Fa altre pesanti Ma si da solo l'occhio È rotto, rotto Torna, torna, torna Torna Ma supera la tua ora, mica Cazzo Sono morto Lui beccara, vuoi tornare indietro, cazzo Vuoi tornare indietro Fa niente Fa niente Sei da solo, figa Ci hanno distrutto anche a me Ero metà vita Dai, giochiamo così Giochiamo male Dai, ragazzi, stiamo giocando male Ma stiamo giocando male Stiamo giocando male Cioè, se io chiamo che sono flash Ecco, cazzo Ho pushato in due Ho da solo contro No, no, avevo poca roba anch'io Avevo un pezzo di vita Di scudo E tutta la vita Ma Avevo poca roba Ok, da solo di tre Ho capito che sei incazzato Vuoi fare punti Però facendo così Si perde più tempo Eh, ho capito Però sai che sei da solo, no? Cioè, piuttosto Indietreggia intanto che spari Piuttosto Perché il caustic Quel caustic lì era distrutto Gli avevo fatto 26 Ed era flash Quindi avevano distrutto già lo scudo Subito il caustic Quindi anche loro dovevano curarsi Almeno uno Cigaretta Diccia Fammi le sigarette Non servia un cazzo Fammi a meno le sigarette Porca puttana Vieni coglioni Stagata E dopo anche io Sono stato idiota Andare a ressarti Con la superattiva Pensavo se tu Ma tu a mezzo fight Mentre buttavo Dove spiedi fermo E lui davanti Se volete pushare Pushate in due No, io non volevo neanche pushare Cioè, io volevo aspettare Che prendevamo tutto E poi andavamo a pushare Eh, ma eri full scudo Dovevi dare una mano Piuttosto Eh, ma per qua Lui volevo aspettare Poi Non sapevo che volate Subito pushare Ho visto dopo Stecker ali Beh, se volete avanti Se full scudo Metti danni Te li puoi da fare Eh Come sono messo bene Vado a terra Entro due secondi Cazzo Ma se era più rattivo Cazzo Se era più rattivo Fesa Però ho vituato Quei random Gioco di merda Non è giocare di merda Sono quelle Sono quelle piccole cose Che devi farle venire Tanti danni Vecchi Non c'è compagno Che pucia Mette danni Anche se hai 20 polpi Mettili 20 polpi Qua dopo Ci rinunce O ti reserci Sembra di no Siamo attaccati Siamo attaccati Penso ci sia un'altra squadra Non sono sicuro Nel latio Ora è buono Allora Ci ho visto bene Ma R301 Oppure è bene Non possiamo bombardarli con radios C'è un'altra arma Mi c'ho solo un'arma Cazzo Qua c'è una Di 20-20 Di merda Grazie Ah lui ce l'ho Occhio aperto Chi è salito Qui c'è un caricatore pesante Lavello 2 Per una buona Bate Mi stanno sparando Anche io ho raggi Rottolito 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 Flash 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 Uno Ti spara Quella era 99 A 80 metri Ma che cazzo sono Io dopo questo Non c'ho più cura Dopo due c'è Non c'ho più cura Eh però aspetta Che ti spara Ho lotto un altro C'è stato Viutato Grazie Dai amaffami Sparami coglione C'ho un milino di merda Vediamo se siamo più curi noi loro Che si devono mettere danni Io gli ho messo 200 danni a questi coglioni Voglio vedere quanti c'è le hanno Niente da fare Senza un milino Ho fatto un milino Ehm Ti spui Non c'è 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 Rotto No Un colpo muore È Flash Aaaaaaah Io parco Ehm Ehm Vabbè dai però Vabbè Dai sono io il problema dai figa Ciò cazzo Faccio schifo Ha busciato Mi hai fatto mettere Flash Sono andati dritti Si vabbè Sono andati dritti Nessuno gli ha sparato Io ho rotto mezzo scudo bianco Locked in davanti Avevo messo Flash E ho messo 150 danni Mentre volavano Beh lo trovi un'arma Non trovi il milino Non vedi un cazzo Porco dio Non vedi un cazzo Dio porco Non possono mettere già un milino Già dentro l'arma Troppo complesso quel gioco qua Dio cane Figa non vedi un cazzo 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 me ne frega Pensi che con i random succede qualcosa di meglio Meglio queste partite del merda Pensi veramente che succede qualcosa di meglio? Vuoi il mio account provare con i random? Ti viene da piangere figa Cagare sangue in confronto Sembra una passeggiata Porca madonna Ah deve essere il più reattivo Deve essere il più reattivo Figa bastarda Puttana Eva troia Spacchio lo scudo ma non va a terra Quel figlio di troia Cazzo 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 Puglioni dio cane Dio orco Dio Puglioni dio Sì Per quanto Gippo ha fatto una�no Swap armor mix Li rate Questa e la cosa Ma Locke anche t'ha pushato in casa scusa t'ha pushato senza scudo a me no a paolo mi ha pushato il brody l'ho messo flash fatice mi ha pushato il brody non aveva tanta vita no gli ho fatto 140 blu 140 blu gli ho fatto quando tu hai chiamato tipo flash l'ho buttato in bolla muso duro io ho fatto 140 blu l'ho knockato io ho crackato sicuro brody l'ho pushato me l'ho crackato male gli ho sparato un colpo sono riuscito a sparare un colpo con il g7 io ho fatto 34 flash cosa 34 cosa c'è un colpo sono riuscito a sparare con il g7 gli ho sparato con l'r301 gli ho rotto scudo poi sono riuscito a sparare un colpo solo con il g7 gli ho fatto 34 flash un colpo sono riuscito a sparare un colpo sono riuscito a sparare un colpo solo con il g7 gli ho fatto salvat sta saltando no coda 110 è partita paolo sta saltando paolo paolo start a paolo ma che cazzo maledito da mio capo cuore io ho fatto il tampone cia il secondo la parte divertente ma si chiacchierà il sito il tampone c'è girato dentro non è capito appunto se fosse il calore un figlio il caldo potete chiamarmi bloodhound non vado questo è il tuo campione può vedere i campioni mi avevo gelato lo scudo da dentro eh non lo faccio dopo il video guardiamo guardiamo mi faccia ricordi tu ma mi strappo la vola porca ma la vola mi sono del tuo cazzo che lo cazzo si tratta sulle palle a gente che gli uccide così facilmente è proprio un cazzo di senza mani Vabbè con destra, con destra sembra BungiGuro Tutti pronti, ci lanciamo Sono squadra dei giardini Possiamo andare qua sotto Coltivazione No, più di uno Più di uno C'è un team, passa qua Eh, io passo qui in mezzo No, c'è qualcuno Eh, vabbè C'è, tre colpi Tre colpi di Poi non lo parlo No, al tolgi, al tolgi, al tolgi Arrivano La porta mi devi tenere, porco, insieme che sei a terra Se tengo la porta si arriva al cogio Non ce ne ho capito Sta bruciando la porta, è il flash, Paolo quella lì, eh Mi sono fermi Ci sta ancora, è il flash la porta le cazzo avanti se fate le libere io vado a giocare da solo cerchiamo a giocare decentemente e basta non si può scendere dio caro e questo qua ha contracolpito i volti che ti butta terra figa connessione interrotta se gli spalle a lui flash è normale che ti dira giù così cosa deve fare connessione interrotta fermata invitatemi 120 o qualcosa gli ho fatto ma guarda che aveva lo scudo blu lo è stato molto prima sulle scale quindi il video è cominciato dopo eh lo so ma si sarà tirata una battery che gioco di merda dio porco che gioco di merda no ma qua sto landing cioè andiamo dritti vabbè questo era un drop che gioco di merda che gioco di merda Fortuna che avevo appena detto, sono stufo di essere ucciso, fortuna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Posso provare l'octane? L'octane? Pasa che non vai a terra subito, figlio, che cazzo vuoi? Eh, ma prima vai a terra subito, si è scesi, cazzo, c'era una merda, c'erano solo nemici che sparavano, cazzo. Minchia che fashion sta musica. Vai, ma sì. Aspettate che i nemici incontri nomi. Ah sì, tanto ormai ho perso tutti i punti, tutti li ho persi, tutti. Tutti. E tutto, e tutto li ho persi. Io ero più di metà platino 4. Io ero più di metà platino 4. Bella. Andiamo alla mongolfiera. Sì, è un'altra città, non è che una winner non sono posti. Come ve la passate? Dici che se è diamante 4 puoi giutarla quelli, poi dopo con se è diamante 3. Sapere come si va, è essere diamante 4, diamante 3. Steale. Vai. Andare dentro a corre. A turbina. Ok, andiamo a turbina. Qua c'è uno zaino. Qui c'è una granata termite. Qui c'è uno zaino, livello 2. Non preoccuparsi, non ti rallenterà. Concordo. P20-20 è molto zambito. Ma guarda, lì si deve andare a fare. Stavo lasciando giù una moda mi, poi vendo un'altra moda mi. Tutto mio. Batemaceleranti, se ritrovate. Stai mai volendo. Non so che niente. Meglio di niente. 3x al volto non si può mettere eh, sto cercando la traccelerante per il... io non c'ho cell, è proprio il zero qui c'è un'ottica, medio raggio no, tieni le due tieni al di due ma tu hai gioco un gioco di merda a rompire la roba, porco dio no, devi velocizzare il loot, devi scannarlo a lootare grazie scannare a lootare, mi passate davanti che cazzo devo fai è quella la zona no, c'è un botto di zone da lootare lì dentro qui c'è un caricatore di traccelle si, si, si grazie qui c'è un R99 trovate lo zaino e chiamate vado entrando, 15% minchia stavo spottando, bap bap a culo no, 38 vediamo un attimo arrivano, arrivano dove 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 sento passi, non so dove sono è il top io li sento io li sento, non so voi c'è qualcuno laggiù fuoco no, no, no non li vedo ho il totem, appena mettiamo danni metto il totem hanno il cecchino ma non c'è chi vale, devi stare vicino con il trampolo si, sono qua pronto però non mi faccio vedere perché ho l'alternator e il blavoc lancio termite f***iamo top sono tutti sotto? c'è qualcuno dietro vettiamo qua, vettiamo qua, vettiamo qua, vettiamo vettiamo, 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 vettiamo non ho preso non ho preso non è salito a Vrate, non è salito a Vrate sono sceso sceso, sceso, c'era Octane dove sei morto la si, il totem si l'uomo la il 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 k sono il il ha 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 ahahahahah oddio eh voi dai entro con stexino facciamoci la partita con stexino lascio la squadra ah come è andata fino ad ora non so guarda non so veramente steale vince steale vince ma vince non lo sento più veramente ma è approvabile ma quanto sarebbe bello quanto sarebbe bello vedere un bel film in questo momento invece di giocare porco dio fa culo palle o ah l'ho cambiato remenand spitfire oh già ce l'ho preso questo qui struttura solida prevene un carino quello verde strano verde eh davvero figa ma proprio ho proprio l'anguria oddio signore non l'ho mai capito perché non mettono più recolor mettono solo due stasera ragazzi una roba decente boh ma faccio schifo io eh appunto probabilmente sono il culo senza mani che fa schifo ma è che vai a terra in poco tempo cioè devi capire meglio i fight vale capire meglio puzza di quello dietro tiri dritto e va tenetevi da coglioni due secondi dice è in game è in game parlato di 1.82 ranker eh la season arriva pronto quando arriva arriva mister bones a che livello è? in questa salute allora non 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 Grazie a tutti. 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 abituati a tutti. e a tutti. grazie a tutti. a tutti. grazie a tutti. e a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. e a tutti. grazie a tutti. e a tutti. grazie 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 a tutti. i colori. ho usato il pad. ho usato Revenant. Ho usato Fuse. Ho usato Revenant. Ho usato Revenant. gli ho usati di tutti i colori. con tutti i random che ho trovato. non c'è stato verso figa. non c'è stato verso. coglioni di ocano che coglioni spari due colpi tre squadre ma la vita in quella vita in quelle lobby è riuscire a non farsi noccare andarsene visto io e paolo appena ho sparato cioè non è che non ti sto andando dello scarto nemmeno però sto dicendo io poi l'abbiamo giocato tutto lo spito ma sono senza mani e non è che ti sto dicendo abbiamo giocato tutto lo spito in queste robe visto prima no che arrivato il tuo party alle spalle noi c'eravamo già andati secchi cioè e tu hai preso il cazzo dalla brin che si è tenuta sopra nonostante avessi ottene è che non sei guidata queste cose magari non è che panichi ma pensi che la gente che ti arriva alle spalle sia fattibile ma allora non è qua la questione come ho detto la questione è che tu non puoi feitare una squadra che non è rivolta una dietro è malattia con i porti non ho detto io ho detto 20 minuti la partita e lui rimane a giocatore ti odio vincenzo no no è vero stiamo dando i campioni quarto d'ora sono stato dentro no cazzo vuoi no no aspetta aspetta cazzo vuoi io cazzo vuoi guardate devo staccare amo questa parte e lui non è che ci stacchiamo adesso arriva c'è una squadra hai vinto almeno hai fatto punti hai vinto sì 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 ho 404 c'è una squadra no non ho vinto ho fatto la quarta posizione ma non ho vinto ho fatto la quarta posizione mamma mia mi danno dei compagni che sono qui giù vabbè hai fatto di uno hai fatto il platino uno sì sì più veloce più veloce più veloce più veloce diamante io ho perso tutti quelli di platino e stiamo parlando di 400 punti quindi non è un problema un senza mani è giusto così sentine le spitfire quindi non sono armato perché la sentine la butterei per terra volentieri no è il perneto mia vaffanculo anche il ciclino ah qua ha lottato eh or codio sto scuduo sì andamelo a me andamelo a me sto scudo eh scappano non so a dirti sei lontanissimo ultime parole famose andiamo da te eh se li volete faiutare li vuole spazi ho capito state faiutando? no si stanno faiutando e si sta avvicinando però avvicinatele avvicinatele che è più sono top eh cazzo lì guarda dai tuoi spazi vedo abbiamo un problema ok hanno una blu o quelli lì perché hanno abbandonato a me una spitfire 100 mili non vedo un cazzo più veloce oh scudo viola stanno louttando stanno stanno screzzando qua sopra ti ha visto arrivo 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 a me spada dietro non solo l'ultimo fuori che pezzis sono scarsi questi in conforme con le lobby sono normali sta scappando ha preso il portale il gibo l'ho preso della lifeline no perchè l'hai tutta da subito la lifeline è sparita non me la dava più dov'è cazzo la lifeline? boh sta scelta io devo ancora scelta è morta ecco sotto troppo pesanti qui c'è un caricatore leggero a giro livello 2 lasciate a me uno 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 un gibo poi c'è un pesante mi ascia mi prendo qualche secondo per ricaricare gli scupi c'è un caricatore di viola da craftare io 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 scusa ma qua c'è uno scudo blu e il lifeline è lo scudo no no è pieno il carico scudo blu e il lifeline è lo scudo bianco non ho capito sta cosa mi credo il lifeline è lo scudo bianco no il resto è bianco ah ok no no scudo bianco espulsione seggiolino hai ma vaffanculo figa è l'azione dai faccio le battere 35 adesso adesso quindi in giudice rimani in ferrovi però la so che sono scuole ma hai due muele anche dai qui ha un otturatore per robbia qui giù quattro celle devil 3 ho detto otturatore a livello 2 mirino che lo prendo io non ti serve meno chiuso 12 io quattro batteri e tre celle è una bellissima skin leggendaria che è turchese la donna mi è già luta nessuno ce l'ho dicevo un draide in questo qui c'è una batteria scudo lasciate a me te la fai un'altra giusto sta? no devo andare a mezzanotte faccio tre anni e ti incula che fai? faccio tre anni e mi incula sangue se non la via videochiamala intanto gioca devi fare la videochiamata? devi fare la sega praticamente metti il telefono altezza televisore ciao amore come va? amore ti sento distratto? no 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 farà quello no no stiamo anch'io wash wash amore secondo te ne facciamo i trani? si si è flash flash stiamo anch'io amore gg raga gg bella vittoria bella vittoria cosa? si è dietro ring madonna addio ma questa qua ma si capisce niente mi stavo infondendo ma il cazzo fa? ah ok hai visto figa ma che cazzo di venire sulla lei 14 15 15 15 per dio 72 da qua c'è qualcun altro eh? si si gio venite di te? si ma non mettermi i cosi ecco spottami one shot la lifeline la lifeline non puoi scottare vabbè tu cazzo ha preso lei dimmi che le preso alle non mi sono fatto a mattare per niente no la lifeline no le ho sparato prima ma si che le ho fatto 100 ma non smetti di sparare te spara no te frega cazzo me ne frega facciamo più felice ho partito con mezzo caricazione le ho fatto 172 poi ho smesso di spararle questa non la capite più cazzo ho smesso anche lei poi mi ha sparato perchè ha smette di spararmi ma perchè? cosa succede? ma che ho fatto eh 3 si si non sto dicendo niente eh sto guadagnando più punti adesso che prima vuole come sicuro fa in open fa in open fa in open spara lì sto coglione mi piace spara vecchio ho il casco d'oro ho il trampolino ogni minuto vado tenete su cosa veloce cazzo la sista è un casco 50 secondi c'è il trampolino eh si 50 secondi ecce chi sopra noi stai con altri bus 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 perda merda merda aspetta vieni qua vieni qua si scaricato il controller porco scomunicato arrivo e quando vuoi farle dimmelo che io volentieri certo fai come si fossero liberi a giocare non mi dicono quando sto giocando tempo di arrivare a diamante dopo diamante mi diverto non perdo un cazzo non è possibile sii che pensi che li trovo io arriviamo arriviamo da un nemico sopra di me sopra di noi sopra di noi l'ha preso la tipa l'ha preso la tipa scappo un ratto viene a pushar ok viene a pushar lancio il trappo ok è sparito nessun nemico audio lo senti? ah no è là è là è là il defense sei pronto? andiamo 445 stiamo fuori safe no non pusharlo stai un ratto fuori safe bisogna del punto bene andiamo indietro no no qua la è partita chi cazzo io va a dire no no c'è più veloce abbiamo 20 secondi ha capito ha capito quindi tu questo ha fatto 136 danni quanti ne metti? 136 danni 23 39 giuste giuste vai l'anello si sta muovendo nessuno è dentro nessun nemico nooo mi ha fatto cadere mi ha fatto cadere prendo la corda almeno almeno dimmi quanti ne vedi quanti ne vedi non è nessuno 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 non è nessuno non è nessuno non è nessuno siamo qui amici no no sono scatti mi sape stiamo perdendo il top però è fuori safe abbiamo il vantaggio siamo dentro la non si fa senza via si chiude da noi si si sento sparare Residence arrivo eh non è nessuno qua vado laggiù a cercare una buona posizione da fare sono sotto? mi sa di si eh sono proprio in residence ah prego si nemico individuato si sei calmo sei calmo sei calmo le cose si fanno interessanti fuori safe quello lì è inutile ah è inutile nessuno c'è non c'è nessuno qua c'è qualcuno all'altra parte arrivano arrivano palloncino qua sotto qua no no palloncino andiamo prendiamo le cacchi sono scesi merda mi sparano portate qua portate 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 controlliamo quella zona qua tirano 3,2 uno non c'è nessuno nessuno ah i nemici di 3 3 3 ma sono scesi perchè gli ha sparato Horizon scala 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 vedo un cartello nelle scale dietro di noi uno capito lì ho visto qualcuno e non penso sia lì per vendere caramelle vedi che cosa si per favore non c'è nessuno non c'è nessuno ehi amico questo tizio non è uno di noi due nemici mi segno quanti? quanti? guardi le scale guarda dietro ok arriva Austin non viene da noi però è dietro i silos si sicuro metti fuori la testa è morto attenzione un problema in movimento va tutto bene amici occhio destra che c'è la rampa posso uscire anche dall'azione intelligente vado facciamo una cosa è ora di andare sto controllo sto controllo ancora 2 ancora sotto? si si ancora sotto ancora 2 qua dietro si sparano eh dietro il silo si sparano non qua eh levati dal cazzo levati dal cazzo zoccola di merda la miau la miau si scava che fa? fuciano dimmi te fuciano no 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 però stanno arrivando continuiamo quella azione arrivo scudo oro eh i problemi che ora che viene suuuu sto controllando i dintorni è una bungalore uno è una bungalore l'altro non so chi è dietro il muro qua dietro il muro mi segniamo uno però c'erano due che sparavano l'altro non so dove sono ancora due sotto e ma qua si pigliano subito il top giochiamo qua è buono guarda vedi scetto rotto mi curo ha sparato solo a me cioè su due sparano tutti e due a me non ha sparato te Ale io mi muovo mentre sparo devi muoverti non è questione che ti muovi è questione che hanno sparato solo a me c'è un altro dietro probabilmente è un'altra squadra si si le ho già spottati sono ancora giù quanto leggeri hai? 180 oh qualcuno è passato qua dietro tre nemici si si due si è quello la che è singolo arrivano con lo rising scudo oro è scesa occhio a sinistra scudo rotto scudo rotto quasi morto per sparte atroppo è scudo rotto spartato quel si si ce la faccio è scudo morto ha piuttosto ovunque lo vedi sotto? ho perso la break, che cazzo è andata? non lo so ah un'occhiata qua sotto si sparano e octane va hai punto? no veramente non mi ha dato neanche quello di octane ho 3 punti fuciati octane, fuciati octane che l'ho messo quasi one shot rossa rossa e flash flash quasi morto arriva ucciso 5 assist e una kill non mi ha confermato comunque octane non so per quale motivo al bloody l'ho smesso tra i ultimi colpi sennò non so se li prendi via si è il bloody ha fatto la scivolata e non l'ho preso con la 301 l'ho preso al volo con le galline con leva 8 47 bestia vai pure sto divertendo diglielo al tuo ragazzo guarda che continuo perché mi sto divertendo livello 62 ricca quindi stacchi? questo la metto! la metto le la clip dopo le la condivido ragazzo ora devo andare sennò mi lascia già immagino gli sulti pezzi merda strozzo quindi si è staccato wilde mi ha invitato a giocare ma devi andare a fare in c**o quel c**o mio quanti danni ha messo? 700? 800? beh non l'ho anche guardato vabbè hai fatto full punti o no? 5 dai che sguardo beh vabbè vabbè 5 va da dio 189 punti non li vedo da non so quanto tempo ciao a tutti ciao a tutti ciao notte grazie ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti